Amiche e amici tifosi della Serie B, voglio partire con questo nuovo format rivolto non solo ai tifosi pisani ma un po' a tutti i tifosi che seguono la Serie B che tifano per una squadra che gioca in Serie B commentando un po' i risultati che ci sono stati nella prima giornata di campionato di questa nuova stagione vi rubo solamente un attimo per dirvi che se guardate sempre i miei video e non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale basta cliccare sul tasto qui sotto e attivate la campanellina per non perdervi più nessun mio video è completamente gratuito, per voi è solo un click ma per me fa tutta la differenza del mondo un enorme grazie a chi lo farà e ora torniamo ai nostri discorsi Risultati sicuramente abbastanza clamorosi ce ne sono stati squadre considerate corrazzate, superfavorite per questo campionato sono cadute alla prima giornata di campionato in partite che onestamente magari non erano neanche troppo proibitive ma partiamo con l'analisi partita per partita, molto breve, ovviamente non avendole viste tutte ho visto Brescia-Palermo perché era l'anticipo, poi ho visto il Pisa, poi ieri sera non sono riuscito a vedere nessun'altra partita ho letto un po' di commenti, ho guardato un po' di highlights e da questi cerco di farmi un'idea ovviamente generale Brescia-Palermo, un Brescia molto d'impatto contro un Palermo tra le squadre favoritissime per la promozione in Serie A che ha steccato subito alla prima perdendo 1-0 al novantesimo però al cospetto di un Brescia di tutto rispetto messo molto bene in campo Dammaran che è riuscito a imbrigliare gli uomini di Dionisi e anche a meritarsi secondo me la vittoria di venerdì sera per quanto riguarda le partite del sabato sul Pisa ho già fatto un video a parte ve lo metto qua sopra nelle schede, c'è anche la live reaction che per me secondo me è abbastanza divertente quindi andatevela a recuperare il Bari al San Nicola cade subito, immediatamente sotto i colpi della Juve Stabia, neopromossa continuando i biancolossi pugliesi con un po' il trend dello scorso anno si sono salvati con i play-out contro la Ternana 3-1 al San Nicola, veramente un risultato molto pesante ci sono tanti problemi a Bari che ovviamente non possono essere compensati dal solo arrivo di Moreno Longo sulla panchina ovviamente un allenatore non può risolvere e ribaltare le sorti di un'intera squadra la Salernitana contro il Cittadella, uno scontro a mio modo di vedere per quello che ho analizzato io nella prediction che anche questa vi lascio qua sopra nelle schede uno scontro salvezza e effettivamente per l'andamento della partita così è stato il Cittadella passato in vantaggio poi nei minuti di recupero diciamo così la Salernitana è riuscita a ribaltarla tra l'altro con un autorete quindi un mezzo rintrugolo sono riusciti a ribaltarla sicuramente uno scontro tra due squadre a mio avviso che si giocheranno la permanenza in Serie B per tutto il campionato però intanto la Salernitana ha messo tre punti in saccoccia che sono importanti un'altra squadra che alla vigilia era considerata una squadra di circa più o meno seconda fascia per quanto riguarda il campionato mi sto riferendo al Modena è andata a Bolzano contro il Sul Tirol e ha perso per 2 a 1 un risultato che non si può dire sicuramente clamoroso perché comunque sono due squadre da metà classifica il Sul Tirol sappiamo che è una squadra tosta l'ha dimostrato anche nella partita di Coppa Italia ha avuto un migliore impatto sul campionato portando a casa i tre punti il Modena deve riprendersi immediatamente Bisoli dall'inizio del campionato ha sempre faticato e purtroppo ha confermato anche questo nella prima giornata di campionato un pareggio tra Catanzaro e Sassuolo un 1 a 1 dove appunto anche il Sassuolo che neoretrocessa tra le favoritissime di questo campionato ha impattato su un campo molto molto difficile come il Ceravolo di Catanzaro per 1 a 1 il Catanzaro che vuole sicuramente confermare la propria realtà rispetto allo scorso anno quando arrivò a quinto insomma quinto sesto mi pare quinto in campionato e lo ha dimostrato fermando subito il Sassuolo super favorito di questo campionato una squadra che a mio avviso e appunto l'ho anche detto nella mia prediction può fare veramente bene in questo campionato è il Cesena il Cesena che ha battuto la Carrarese per 2 a 1 al Manuzzi io lo chiamo ancora Manuzzi Orogel Arena come si chiamano ora sti stadi veramente una roba che non accetterò mai ma è il mercato bellezza come si suol dire un Cesena che era passato in vantaggio per 2 a 0 poi la Carrarese ha accorciato le distanze ha provato in tutti i modi a recuperare la partita ma i bianconeri l'hanno portata in fondo è una squadra da attenzionare veramente in maniera importante il Cesena può essere la sorpresa di questa Serie B e veniamo ora secondo me al risultato più clamoroso della prima giornata e cioè Cosenza-Cremonese 1 a 0 la Cremonese data da tutti come una delle squadre non a mazza campionato ma comunque una squadra che ben attrezzata che doveva far bene in questo campionato sicuramente lo farà è la prima giornata ragazzi non è che possiamo pensare che questa sia poi l'andamento di tutto il campionato ovviamente analizziamo questa giornata e ci focalizziamo su questa andando per compartimenti stagni il Cosenza che a mio avviso avrebbe dovuto essere abbastanza sfavorito contro la Cremonese è riuscito a vincere per 1 a 0 ho letto alcuni commenti anche da parte di tifosi della Cremonese molto molto delusi si parla già anche di qualche critica all'allenatore un Cosenza di invece Massimiliano Alvini che è riuscito a portare 3 punti a casa saranno 3 punti importantissimi sempre a mio avviso per la salvezza che dovrà conquistare secondo me la squadra calabrese la Cremonese per i giocatori che ha non può essere quella vista a Cosenza quindi avrà modo e tempo per riprendersi è la prima giornata c'è una stagione intera davanti parlare ora già di delusioni o cose del genere è inutile in prospettiva ovviamente stagionale per quanto riguarda la prima giornata onestamente è un risultato abbastanza clamoroso Frosinone e Sampdoria si sono spartite la posta un bel 2-2 divertente sicuramente due squadre anch'esse molto importanti per questo campionato il Frosinone visto in Coppa Italia con il Pisa poteva sembrare una squadra molto molto in difficoltà la Sampdoria con tutti gli acquistoni che ha fatto Tutino, Coda e altri si poteva aspettare una scoppola in Ciociaria e invece la squadra giallo-blu è riuscita comunque a portare un punticino a casa che con la Sampdoria secondo me non sarà facile per tutte in questa stagione altro pareggio tra due squadre a mio modo di vedere più o meno da mezza classifica Reggiana-Mantova anche qua un 2-2 scoppiettante due squadre che si sono affrontate a viso aperto un Mantova neopromosso che vorrà sorprendere in questo campionato di Serie B una Reggiana che vuole consolidare la sua posizione in questo campionato puntando alla metà classifica magari anche con qualche mira forse un pochino più in su questo un po' il quadro della prima giornata di campionato ovviamente la classifica è inutile anche starla a guardare la cosa interessante è che ci sono due neopromosse in testa a tre punti come Juve Stabia e Cesena mentre Cremonese e Palermo due superfavorite sono in fondo con zero punti c'è un'altra 37 partite è iniziata ora sarà un cammino lunghissimo che scopriremo insieme ogni settimana e come sempre buon campionato a tutti un'altra 37 partite per farlo con la prima